Beh sì, amara perché il primo tempo è stato un bel primo tempo, la ripresa sembrava che la squadra era ripartita bene, poi insomma al solito quando subiamo un gol c'è questa difficoltà a reagire, però nel complesso abbiamo visto una bella squadra con degli ottimi giovani, quindi questo per me è già stato un buon motivo di soddisfazione, per carità, poi tutte le cimbelle non escono col buco, anche qualcun altro non uscita col buco oggi, ma è andata bene così. Presidente, però fino a qualche tempo fa il Bonolis era un po' il fortino e adesso sembra diventato terra di conquista. Però lo vediamo, quasi tutte le squadre hanno dei cicli degli alti e bassi, oggi speriamo che anche le prime in classifica hanno dimostrato lo stesso potenza, è venuto da un periodo abbastanza difficile, purtroppo sono dei cicli che le squadre subiscono, poi non scordiamoci che la nostra rosa è anche abbastanza infortunata, ci sono dei momenti, quindi speriamo che riusciamo a riprendere per la fase finale, è importante mantenere le posizioni, adesso non conosco gli altri risultati del girone, se abbiamo mantenuto la nostra posizione. La zona fuori dai play-off è a tre punti? La zona fuori dai play-off è a tre punti e cercheremo di mantenere, di rimanere sempre, il nostro obiettivo, loro lo sanno, era il quinto o sesto posto, il quinto posto è il mio obiettivo, poi vedremo, mancano ancora? Undici partite? Eh, undici partite, sono trentatré punti insomma.